Di Livio Opti, Legvinsky, Dumas, Ndoran, torna Iqpeba, perde l'attimo, lo recupera, gran dribbling, copo di testa, intervento di Peruzzi su Diavara, Benarbia, e qui Iqpeba in fuorigioco, gran botta comunque, buon suo riflesso, un gioco era fermo, chiede ad 1-2, Inzaghi, rimpallo, palla a gol per la Juve, Deschamps, Del Piero, numero incredibile, Deschamps a metà strada, tra Bartese e Inzaghi, clamorosa occasione Sì, non ha creduto, è arrivato lì, non sapeva cosa fare, perché ha visto al centro Inzaghi, lo tutti Barriera forse troppo vicina, parte Del Piero, ed è gol Ed è rete, rete fantastica, Del Piero ancora una volta, trova l'incrocio dei pali, gol numero 17 in Coppa Campione per lui Ma soprattutto è gol dell'1-0 sul Monaco No, è impressionante, si è visto immediatamente quando la palla è partita, quando la palla è partita era troppo Penetra, gran numero, Cristian Ball, zona tiro, prova, non è male Sì, vedi, questa è stata un'azione che dimostra di avere personalità, sto ragazzo Basso, corto, tentativo, e c'è il gol, incredibile pareggio di Da Costa, proprio il portoghese appena entrato Sì, ma ci deve essere stata una deviazione Ci deve essere stata una deviazione Comunque, Inzaghi, Zidane, va giù, rigore, rigore, rigore Bartès su Zidane, colpo di scena, uno dietro l'altro Prima il pareggio di Da Costa, poi parte lui Ed è rete, rete, Del Piero, non sbaglia Gol è importantissimo, la Juve torna in vantaggio ancora con Del Piero Guarda che è stato molto bravo a calciare la Bene, Arbià, non va No, hai visto, hanno creato Treseguet Destro, pretendo un po' troppo stavolta, Treseguet dal suo destro Sentiamo Alberto Daguano Sì, solo per dire Cerca Inzaghi, Inzaghi, va giù, calcio di rigore Eh sì Calcio di rigore Inzaghi, si è allungato il pallone Non ci sono proteste Timidamente Sagnol, l'arbitro facendo Riparte Del Piero E termete Non sbaglia mai 3 a 1 Del Piero, tripletta per lui Gol numero 19 in Coppa Campioni Continuiamo il conto Ma C'è Inzaghi, Del Piero, le sue finte Va via, mette in mezzo Inzaghi Non va Guarda l'anticipo incredibile Sì, ma la bravura è l'intesa che cerca a questi due giocatori A due Attenzione, c'è Inzaghi Inzaghi controllo, Inzaghi, Bartes Inzaghi ancora, Bartes Grande palla ancora per Inzaghi Barthes, duello tra loro ormai Eh sì, e purtroppo si è sempre Zidane Grandissimo anche lui Del Piero Del Piero Zidane, Zidane Destro E gol Zidane arriva il 4 a 1 Gol anche per lui La Juventus Vede la finale Eh sì, hai visto anche in questa circostanza È finita È finita È il trionfo della Juventus 4 a 1 Nell'andata di semifinale di Champions League Al Monaco Tre gol di Del Piero Uno di Zidane Finale praticamente Potenzialmente 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 Grazie a tutti.